L'esploratore di fama mondiale, Mason James, usa il suo escavatore per sollevare un pesante macigno. E sua sorella Kyla usa la sua ruspa per sollevare un macigno della stessa portata. Ben fatto! Ma vediamo quale mezzo riesce a portare a termine il lavoro. Beh, siamo di nuovo pari, Mason James. Woohoo! Wow! Hai fatto tu quel suono, no? È il fischio di un treno. Significa che il treno con il nostro nuovo rullo compressore è vicino. Raggiungiamo la stazione. Uh! Quel rullo compressore è perfetto per ripavimentare le strade della città. Ci serve di sicuro. Faremo tardi. Meglio chiamare l'ingegnere ferroviario. Siac, 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 siac. Rum, rum! Hz! James chiama Matchbox Express. Mi sentite? Pronto? Pronto! Oh oh! La radio è fuori uso. Speriamo che il treno ci aspetti alla stazione. Andiamo! Rum, rum, rum. Mason James! Attenzione! C'è una frana! Quella frana ha messo fuori uso parte del binario! E senza comunicazione radio non abbiamo modo di avvisare l'ingegnere prima che il treno ci si schianti! Proviamo a sistemare il binario in tempi record! O proviamo ad avvisare l'ingegnere ferroviario! Se noi comunicheremo, potremo fare entrambe le cose! Sì! Ok! Raggiungo il binario e avverto l'ingegnere! E io inizio a togliere le rocce! Vedrai che questo scavatore rimuoverà i detriti in un attimo! Salve! Aspetti, rallenti! I binari sono danneggiati! È pericoloso! Deve frenare! Maison James, non riesco ad attirare l'attenzione dell'ingegnere! Devo fare qualcosa di più eclatante! Oh oh! I binari sono danneggiati! Io ho i materiali e i macchinari per ripararli, ma tu devi rallentare il treno! Forse può aiutarci qualcosa al cantiere! Hmm... Se questi funzionano per rallentare il traffico, magari possono aiutare a rallentare quel treno! Kyla, i nuovi binari non sono fissati! Se il treno li raggiunge, deraglierò di sicuro! Il treno sta rallentando, Maison James! Ma non avrà il tempo di fermarsi e colpirà il binario danneggiato! Non è l'unico problema! Mi sono appena accorto che l'unico macchinario in grado di aggiustare il binario è sul treno! Irruno compressore! Ok, posso trovare il modo di salire sul treno se tu trovi il modo di far scendere me e il rullo compressore dal treno! Ho trovato! Ma dovremmo avere un tempismo perfetto per farcela! Sì! Il tempismo è... Tutto! Sì! Fatto! Sono sul treno! Tu dove sei, Maison James? Nella gru! A far scaldare il rullo compressore! Il tuo elevatore sta arrivando! Ok, Kyla! Adesso mai più! Andiamo! Eccomi! Non preoccuparti! Ti ho preso! È ora che il rullo compressore faccia quello che gli riesce meglio! Schiacciare! Ce l'hai fatta! Ora via dal binario! Si sta avvicinando! Ciaca, 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 ciaca! Chiu-chiu! Questo rullo compressore non è fatto per essere veloce! Di certo però fa bene il suo lavoro! Woo-hoo! Altri guai in vista per il treno! No! Credo che il treno stia solo dicendo grazie! Grazie! È stato un piacere, treno! Ehi, 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 ehi! Autore dei sorrisi